Chiuderanno alle 15 di oggi i seggi di questa tornata amministrativa. Nel Vicentino sono 11 i comuni coinvolti, con il capoluogo Vicenza in testa. Crolla l'affluenza in maniera generalizzata. A Vicenza ieri il dato diffuso dalla prefettura faceva segnare un meno 20%. In provincia si va dal meno 22% di Quinto Vicentino, il dato peggiora finora, al meno 4% di Enego. Unico comune però che nelle ultime elezioni si fermò sotto il 50% dei votanti. Insomma la stensione si conferma il primo partito anche nella provincia. Gli strateghi di tutti gli schieramenti aspettano ora i primi exit poll e dall'analisi del voto sarà più facile capire che ha tratto vantaggio da questa disaffezione degli elettori. Grazie.